Buongiorno a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale Oggi è l'immacolata, quindi a casa mia, e penso anche a casa vostra, si fa l'albero Buongiorno a me! Sta ballando perché abbiamo messo ovviamente la musica di Natale Abbiamo già perso un pezzo dell'albero La musica di Natale è la musica di Natale La musica di Natale è la musica di Natale La musica di Natale è la musica di Natale La musica di Natale è la musica di Natale La musica di Natale è la musica di Natale La musica di Natale è la musica di Natale La musica di Natale è la musica di Natale La musica di Natale è la musica di Natale